Sì! 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 Di mezzo? Sì! 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 E' un po' di siena anche però Questa è un attimo Pure stereo Tra un minuto è stato un youtube Buon marzo che stava passati, è bellissimo Infatti è di perfetto il vaso Se non è nata la cosa, non è una battuta Scusa Che è facile però questo, dai No Andrea non gli legge il po' Cos'è Andrea? Però sono 5.5 Perché non gli legge il po' Scusa 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 Ma è lei che stai dietro? Ok? E' di più qua Abbasciate Ed è di uno dietro E' un po' è presa Che cosa? E' un po' è presa Questa è un finito Qui è un finito Chi fa la prendere, che non la prendere ottimo che hanno vado a bianca le cose stacchi non gli piacciono non stai bene come le dalle lo voleggio Marzia si non stai a fare un'inghiacchia non stai a fare un'inghiacchia non stai a fare un'inghiacchia ma non stai a fare un'inghiacchia non basta che non stai bravo non basta che non stai bravo vieno mamma te ne mancano due secondo te sei troppo avanti Marzia non mi mancano per domani te ne mancano due vieno 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 non basta non sta bene ma non ci sono che ti senti più lo tossiccio che c'è una bombola non è avanti ma non c'è un'inghiacchia ma non c'è un'inghiacchia non ci senti più ma che ti la faccio aspetta non fai vieno 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 Grazie